bella ragazzi e benvenuti e siamo su minecraft ragazzi oggi cominciamo diciamo questa serie non so se continuerà o tutto quindi sono qui nella creazione del mondo infatti lo chiamiamo nuovo come lo possiamo chiamare il mondo fa un bagno mondo il mondo così modalità sopravvivenza altre opzioni vediamo un po tipo di mondo normale baule bonus facciamo sì perché voglio iniziare con un baule bonus comandi no strutture sì fatto crea un nuovo mondo ecco qui il nostro mondo raga vicino a un maiale vi dico io ho avevo anzi no c'era ancora c'ho un altro mondo dove sono già il gioco normale come 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 vedrete qui e girando quanto legno girando ve lo giuro ho trovato un dungeon sotto dove ho fatto la casa e ho detto boh ma che cavolo di dungeon è ho guardato un po e mi sembrava il dungeon dell'end già poi dopo guardando bene non era quello è un po mi miro del culo perché adesso mi tocca cercare il vero dungeon dell'end che non ho questa ce la prendiamo e andiamo cerchiamo un posto dove fare farci una vita diciamo così vi dico io non sono un bravissimo a creare le cose su minecraft è io sono più bravo a esplorare anche se muoio un botto di volte però cerchiamo un posto dove farci casa qui no qui la casa non me la voglio fare voglio vedere se trovo anche dei biomi fighi perché questo fino adesso non è niente di che avevo trovato dei biomi belli raga veramente allora prima di tutto visto che abbiamo un pezzo solo di questo lo usiamo ci creatiamo una crafting table e con la crafting table che piazzeremo qui ci creatiamo una bellissima spada anche se una spada di pietra va bene lo stesso adesso salve maialino non ti preoccupare adesso ti ammazzo con calma ci riprendiamo la crafting andiamo dal maialino e tararara papà morice merda morto andiamo da un altro maialino questo poi prenderemo anche le pecore perché mi è venuto in mente adesso che mi serve poi un letto morice minchia altro maialino non è per cattiveria che mi serve la carne mi serve pecora beh morice ok altra pecora morata e tre pecore abbiamo già trovato i tre pezzi che ci servono per il letto e già che ci siamo ma siamo anche qui oh 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 quanto è vivo dove è l'altro dove vai dove scappi dove scappi dove scappi a zio dove vai oh a zio vaffan giro amori c'è un muore sta zia oh abbiamo dieci pezzi di carne ok questi maialini li terrei in vita anzi vi lascio proprio non voglio andare nella savana non voglio andare di là ma prega non ci credo abbiamo già trovato un coso un villaggio di villager no vabbè che culo ultimamente sto avendo un culo in minecraft rega sto trovando il mondo mangiamoci una mela sto trovando veramente il mondo come vi ho detto nell'altro minecraft ciao nell'altro minecraft ho trovato nell'altro 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 mondo ho trovato veramente un sacco di robe carino però sto salve poteva farci una scalina qui eh vediamo se troviamo no dai dov'è ditemi che c'è il fabbro 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 oh che cazzo è il fabbro lo cerchiamo morela ma non credo ci sia aspettate salve tu cosa mi dai la respirazione non mi interessa ma sarà roba mettere una porta lassù mi pio anche la porta vaffan giro allora qui mi piglio questi perché mi servono a bomba comunque è un buon un buon villaggio un villaggio un po' del... ah il cibo stavo dimenticando il cibo rega la cosa una delle cose più importanti in tutti allora qui abbiamo delle carote eh ok andiamo possiamo già andare e belline le troione dove sei che devo darti una botta tiè così ma guarda quanti cavolo ce ne sono qui salve salve uh le canne da zucchero come oro pigliamole come se fosse oro quando ne abbiamo otto sono un po' pochine andiamo vediamo un po' se troviamo cose interessanti ci mangiamo un'altra mela sott'acqua perchè noi siamo acabe ci mangiamo le mele sott'acqua lo prendo semplicemente perchè mi serve poi ma questo legno è veramente inutile ma a me non piace mmm bene che dite regà lo facciamo? vabbè facciamolo noi siamo pazzi e facciamo le cose a caso fidatevi facendo così o si va verso una morte certa o si va a trovare il posto perfetto per costruire e per vivere ok crafting cipiamo ehm otto pezzi si ma quante cavolo allora facciamo così facciamo una bella barca di acacia anche l'acacia ci pigliamo la crafting la barca lo usiamo subito la sabbia bene o male adesso non la voglio prendere potrei prenderla ma sti cavoli non la prendo semplicemente perchè non me ne faccio niente andiamo e vediamo se troviamo un posto bello dove vivere salve dai 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 sbrigati 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 dai altre due due cose poi chiudo adesso col culo che c'ho mi becco un creeper dietro raga mamma mia aspettate 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 che cavolo è eccolo qua dopo chiuso meno male allora siamo abbastanza al sicuro per adesso cosa faremo andremo un po' avanti vediamo se troviamo qualcosa ma non credo e se non troviamo niente ci facciamo un piccolo spiazzettino dove potremo dormire poi dovremo ricominciare vabbè andiamo avanti basta cioè andiamo avanti fermiamoci andiamo avanti allora abbiamo anche una pala ok le ceste poi ce le facciamo di cavoli ok andiamo pala piccone si stavo usando la cavolo si chiama lascia ok no cavolo ma perché è già finita nel senso guarda una affa un giro vai chiudiamo vediamo se quassù c'è qualcosa che ci può essere utile o comunque qualcosa che ci può servire per la casa a parte uno zombie oh aspettate raga eh non posso lasciarvi non è cattive dove vai? dove vai? se no viene lo zombiero per mille va mamma mia uffan culo uffan culo uffan indovinate culo mucca stai scappando troppo mi stai rompendo mucche dobbiamo prendercele anche per la pelle anzi soprattutto per la pelle perché io con la fortuna che ho dove mi faccio la casa non troverò mucche mangiamoci una patata patata al forno perché patate al forno sono sempre buone e andiamo un maiale che lasceremo lì perché se noi siamo usiamo così ok ok fatemi dare un occhio mmm ecco forse abbiamo trovato il posto ragazzi forse abbiamo trovato il posto dove accamparci qui abbiamo dell'acqua altra acqua una pecora un paio di pecore una marea di pecore una gallina pecore pecore tutti a pecore il posto dove potremmo costruire potrebbe essere anche questo per adesso qui c'è niente quindi va bene potremmo volendo costruire qui sottoterra non sopra perché per adesso non ho tempo di costruire sopra quindi andremo sottoterra e costruiremo una base sotterranea andiamo non ho trovato niente niente vabbè fermiamoci qui non ci credo guardate il ferro l'ho detto in questo momento non ho trovato niente e tacchi il ferro vedete quando uno cioè vabbè sono troppo troppo devo dire eh non ho trovato niente mi servirebbero anche dei diamanti mi servono niente adesso i diamanti però cioè servono sempre dei diamanti però adesso come adesso non siamo messi così bene ce ne faremo molto abbiamo solo un po' di pezzi diamoceli vabbè un po' di pezzi ci sono ah altro altro ferro uh altro ferro mazza oh diamo il ferro uh e allora e allora non finisce mai il ferro allora ci sta ok ragazzi come vedete ho allargato di tre blocchi in avanti poi per per i lati faremo prendiamo il nostro bellissimo letto e lo piazziamo qua si ci dobbiamo prendere la nostra crafting che piazzeremo eh un po' più non la mettiamo la crafting di qua dai qui dentro ci mettiamo tutta la roba che adesso ormai adesso non mi serve eh tipo questo tipo questo 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 il ferro mi servirebbe a bomba anzi il problema è sempre quello senza coal qui ehm mettiamoci il ferro e di qua ci mettiamo le patate ehm ok no ci serve ci serve per forza il ferro per forza rega madonna mia ho un sacco di roba da cucinare tanto questa roba la metto dentro ehm questa la tengo questa la metto dentro questa la tengo perché devo cuocerla questa la butto io mi serve un cazzo e questa vabbè la tengo anzi questa la trasformo eh 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 questa la metto via no questa la tengo dai ci sono le torce questa la metto via ehm adesso magari scaverò un po' da questo lato o di qua adesso vedo fatemi vedere quanto sono alto neanche troppo quindi volendo potrei anche scavare giù però vado un po' avanti faremo così ragazzi guardate andremo avanti ci mettiamo quattro pezzi qui quattro pezzi qui e e e e e sì senza farci il stick ce li abbiamo qui sì ci facciamo tutto quello che ci resta in tor lo vediamo io penso che 20 torce per adesso bastino e ci piazziamo un po' di torce qua perché siamo a secco torce andiamo giù torcia eccoci qua torcia già che c'ero potevo anche farmi un altro piccone però così vedremo vediamo 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 molto bene cosa prendere io vi dico sarei contento anche di trovare un pezzettino vi dico di redstone di di lapislazzi giusto per cominciare a metterli via per cominciare tanto un più avanti ci seguono quindi nell'altro ero stato veramente fortunato nell'altro bioma avevo trovato tutto cercandolo come ho fatto qui e ho trovato ho finito il piccone porca troia ragazzi per oggi il video finisce qui se vi è piaciuto un bel pollicione in su se non vi è piaciuto pollicione in giù se volete che la serie continui scrivetemelo a un like sotto e rispondete al sondaggio che metterò bella grazie a tutti